Tempo di primi annunci in casa rinascita Volley Lago Negro. Dopo il rinnovo di Mister Falabella, l'allenatore Biancorosso e il DS Nicola Tortorella sono nel pieno di un intenso periodo sul piano delle trattative e delle iniziative di mercato. La primissima conferma rispetto alla stagione scorsa non poteva non riguardare colui che ha indossato la fascia di capitano diventando ben presto il faro della squadra, Alessandro Giosa. Mi preparo a vivere la seconda stagione al Lago Negro in una piazza per me molto importante, dichiara il centrale pugliese, dove il pubblico e la società hanno dimostrato di poter competere con le grandi del Volley italiano e sono orgoglioso di poter avvestire ancora i colori di questa città. Giosa quest'anno metterà a segno la sua ventunesima stagione in Serie A, con più di 600 partite alle spalle. A partire dalla fine del campionato, sia da parte nostra sia da parte di Giosa, non ci sono mai stati dubbi sul rinnovo, commenta il DS Tortorella. Alessandro è prima di ogni cosa un uomo di grande spessore, poi un atleta di altissimo valore, per questo abbiamo voluto fortemente che anche quest'anno rimanesse con noi. La seconda pratica archiviata riguarda il martello Giuseppe Boscaini. Per il posto 4 siciliano la prossima stagione sarà la terza consecutiva con i colori bianco-rossi, a cui in questi anni si è legato molto. La conferma di Boscaini è un altro punto fermo su cui costruire la prossima squadra, afferma Coach Falabella. Peppe è un grande lavoratore, ma è soprattutto un atleta dalle indiscutibili doti tecniche e umane. La sua presenza e la sua professionalità, unite a quelle del già confermato Giosa, sono la base di partenza per formare un gruppo importante. Ho avuto molte proposte, conferma Boscaini, ma Lago Negro per me è una priorità. In questi anni ho condiviso con la società e i tifosi momenti importanti e sono di nuovo pronto a fare la mia parte. Intanto il lavoro del tecnico e del DS va avanti, senza sosse, e continuano le trattative per portare a Lago Negro atleti di spessore. Stiamo lavorando tanto, conclude Tortorella, il mercato è ancora agli inizi, ma ci stiamo già muovendo su diversi fronti. L'incontro con i vertici di Lega Volley ha fissato la chiusura della finestra estiva per il 21 luglio e l'inizio del campionato per il 24 settembre, con due gironi da 12 squadre ciascuno. Inizieremo pertanto la preparazione nei primi giorni di agosto.